non batte nessuno sotto certi ambiti, certe strade e che la batte una moto così maneggevole non c'è nessuno bene dai ragazzi partiamo che andiamo a fare il giro qua, il giro top secondo me questa è una strada proprio 690 ma un mezzo anche come l'890 non so perché, io ho visto dei video adesso delle prime prove, vedo che fanno una curva dopo l'altra con una maneggevolezza assurda i 200 kg lì probabilmente, quei 200 kg lì probabilmente non si sentono comunque ragazzi voglio fare, adesso quando ci sono delle novità o qualcosa l'ho pensato magari di fare delle live dove programmo una live o meno qualcuno partecipa o non lo so, vediamo secondo me l'Smt c'è un potenziale della madonna anche sul tipo di strada del genere, ovviamente non avete in mezzo alle gambe un 690 c'è tutto un altro telaio, c'è una sella più larga telaio più largo telaio più largo, tutta un'altra roba cioè io voglio provarla poi questa è una macchina da guerra non la battono non la batte nessuno sotto certi ambiti certe strade e anche la batte una moto così maneggevole non c'è nessuno cioè, boh non vi rendete conto ma un attimo sta moto fa i 130 ci dovrebbe fare una volta un 0 a 100 problema che adesso impenna sempre perdo un sacco di tempo bello scudo scudo, scudo troppo bella questa strada con questa terza qua poi spettacolo troppo bella questa strada la terza è cattiva la terza è troppo cattiva calza calza Fa paura cazzo Paura fa adesso sta moto cazzo Questa rapporti Fa paura Troppo bella questa curva ragazzi Porco zio Tipo con la MT Ho preso paura Ho preso paura Bene adesso arriva il pezzo Finale bello in discesa Le curve belle tornate in discesa Facciamolo Di casa troppo questa Troppo bella Si vede anche il lago Di casa troppo questa strada qua E' tutta una curva La strada dei sogni questa La strada dei sogni La strada dei sogni Bello il tornante a chiudere Panorama Wow Troppo bello Troppo divertente Il K Quest'anno cazzo E' troppo divertente Quella peggia tutta A chilometri Cazzo Fuori i giri Fuori i giri Siamo Wow Wow Adesso la frizione Non ti saltellamento Fa il suo lavoro Fuori i giri Deve fare pombo Mamma mia Que progresione Maura Paura Paura Oh Tornante Bello Uuuu Adesso ce avicineam il centrul abitatul basta Bene ragazzi E con questo panorama Io Vi saluterei La strada Adesso siamo in fondo C'è il paese Non voglio Mi sentono arrivare a due chilometri Con questa moto Fa un po' rumore E allora Voglio preservarmi la stagione Fa una zona un po' Bella la discesa questa Molto bella Discesa molto bella La salita La salita di là Molto bella Andate a vedervi il primo video Di questo giro Bene dai Se non l'avete ancora fatto Vi invito ad iscrivervi Se vi piacciono questi video Le strade di montagna I motard Le novità che ci sono Perché il canale Lo tengo Voglio tenerlo abbastanza Vivo Anche nel senso di moto Perché mi piace anche cambiare Portare nuove cose Però ho bisogno del vostro aiuto Perché Ci sono i link Ci sono i super grazie Ci sono tante cose Per dare una mano al canale E ecco E grazie a voi Che riesco ad andare avanti E portarvi queste cose Spero che vi piacciono Insomma dai Bene ragazzi Siamo arrivati in fondo Dai Vado a fare benzina Perché sono in riserva Ci vediamo al prossimo video Sintonizzati con la campanella Mi raccomando E un saluto a tutti Dai Gnari Ciao 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 Ciao